Un partito senza regole non è né democratico né operativo. Vittorio Santori, lei lascia il PDL per protesta contro il coordinatore regionale Ceroni. Un PDL che con un gioco di parole potremmo definire partito della libertà di farsi del male o di fare del male, in questo caso, a lei sostiene. No, io lo definirei il partito delle libertà perdute. Qui non esiste partito da tanto tempo. Io purtroppo questa denuncia pubblica non la potevo fare in veste istituzionale, ma adesso che sono uscito posso dire come stanno le cose. Qui nessuno ha contribuito allo sviluppo, al radicamento del partito se non è sottoscritto. Economicamente, aprendo le sedi e sostenendo i costi. Ho contribuito ad ottenere un consenso su regole condivise all'interno del partito, ma mi è stato sempre impedito, non solo da alcuni interessati a livello locale, ma anche e soprattutto dalla linea politica dello stesso Ceroni. Linea politica dello stesso Ceroni che oggi vediamo concretatasi con vendette personali nei miei confronti e che ha portato tutto il territorio della nostra zona, San Benedetto, Grotta Ammari e dintorni, a perdere ogni riferimento a livello regionale. Il consigliere Umberto Trenta non doveva essere neppure candidato, se parliamo di trasparenza nelle candidature, così come voleva Silvio Berlusconi, e invece Ceroni ha preferito appoggiare la politica del PDL a queste persone che hanno già ottenuto una sentenza di condanna per tentata truffa nei confronti proprio della stessa regione Marche che dovrebbe andare a gestire insieme agli altri consiglieri. 3.300 voti, però ha perso la corsa al Consiglio regionale. Cosa risponderebbe per sostenere le sue ragioni? Io non ho da obiettare nulla per quanto riguarda l'elettorato che mi ha votato fortemente. Quello che lamento è una ingiustificata interferenza, intromissione del coordinatore regionale che è venuto dalle nostre parti a fare campagna elettorale contro di me, nelle riunioni, con telefonate, mandando i suoi seguaci a fare un'operazione che si era vista fin dall'inizio con la candidatura di Bruno Gabrielli, un'operazione ormai chiara fuori Santori ad ogni costo, perché non si è voluto proseguire nella linea di crescita del partito, nella linea moderata di apertura verso i cittadini, nella linea che io ritengo necessaria per andare avanti sul territorio e dare risposte alle tante esigenze locali. Poi lei è rientrato fra le candidature in quanto consigliere regionale uscente, però secondo lei, nonostante questo, all'interno del partito si è detto di non votarla. Sì, è stata la direttiva, poi insomma gli organi del partito non esistono, il coordinamento regionale è qualcosa di fatiscente, Ceroni fa e disfa tutto quello che vuole, immaginate alla candidatura di Bruno Gabrielli decisa da lui soltanto, senza che il coordinamento si fosse mai riunito, per decidere quale fosse la candidatura del Presidente e le conseguenti candidature d'analista. Quindi un mese prima già i manifesti erano affissi su tutto il territorio grazie all'ordine di Ceroni e all'accordo che aveva fatto con Bruno Gabrielli sul territorio ai miei danni.